Una partita dai due volti, nel primo avete giocato nettamente meglio, forse creato poco, nella ripresa meglio il terra. Sì, direi tutto sommato che è una buona analisi. Infatti ho rimarcato questo all'intervallo ai miei ragazzi che con un primo tempo di quel spessore lì dove potevamo e dovevamo fare un paio di gol perché ci siamo arrivati e a me è piaciuto tutto tranne gli ultimi tre metri per intenderci. E poi c'è stata una reazione anche da parte del Terramo nel secondo tempo. Abbiamo avuto un'altra palla clamorosa per far gol con Voltan, se non sbaglio. E quando si sbaglia molto, troppo, inevitabilmente perdi anche alcune certezze che ti permettono di fare soprattutto quei 45 minuti iniziali. La sostituzione del vostro portiere, problemi addominali? Sì, mi sembra che sia all'ospedale adesso. Non si sentiva molto bene e per cui guai a scherzare con queste cose. Chiaramente abbiamo preferito fare un cambio. Che squadra ha visto il Terramo? Come l'ha vista? Come l'ha inquadra? Il Terramo io non conosco chiaramente da esterno gli obiettivi che posso avere. È una squadra che potrà dire la sua lottando con del sacrificio, soprattutto in casa dove il manto è chiaramente diverso da tutti gli altri e possono avere questo piccolo vantaggio.